Il Clavelitos, questa bagatella numero un'opera di Fernando Sorri, ricordiamo Giacomo Palazzese e la chitarra, sarà assunta la radio di Cana 12 maggio 2014. Giacomo, ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi. Come dico a tutti i giovani talenti che vengono a suonare nei nostri studi, quando vorrai venire la porta della radio di Cana sarà sempre aperta. Grazie e ci lasciamo allora con la musica di Valverde e di Sor. Buona serata a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.